Mio padre se n'è andato, quindi perché non te ne vai anche tu? Stai fuori dalla mia vita, per sempre. La voce che mi insultava al telefono era quella di mia figlia, con la quale avevo trascorso più di dieci anni. Alice, la figlia di mio marito avuta da un precedente matrimonio, aveva cambiato radicalmente atteggiamento nei miei confronti, la sua matrigna, quando aveva iniziato a vivere da sola. Poi, quando suo padre, David, morì in un incidente, la sua ostilità aumentò ancora di più. Mi accusò di essere una falsa madre e arrivò persino a chiedermi di rinunciare all'eredità del mio defunto marito. Dopo essermi risposata con David, avevo cercato di costruire un buon rapporto con Alice. Ma le sue parole incredibilmente offensive mandarono in frantumi la mia determinazione. Ero esausta e indifferente e mi ritrovai ad accettare di rinunciare all'eredità. Tre giorni dopo lo sapevi, vero? Lo sapevi e lo hai taciuto. Mia figlia mi chiamò freneticamente, con la voce affaticata dal panico. Solo pochi giorni prima mi aveva detto di starne fuori e ora, al telefono, mi urlava disperatamente di risolvere la situazione. Sentendo un profondo sospiro sfuggire dalle mie labbra, risposi con voce fredda. Mi chiamo Naomi Parker. Vivo con mio marito David e nostra figlia Alice. A dire il vero, Alice non è la mia figlia biologica. È la figlia di David, nata dal suo precedente matrimonio. David e io ci siamo incontrati, o meglio, riuniti, a una riunione del liceo. Il giorno in cui l'ho rivisto dopo tanti anni mi è sembrato un po' stanco, persino tormentato, rispetto a quando era al liceo. Forse l'alcol lo rendeva più loquace del solito. Circa un mese prima della rimpatriata, mi disse tranquillamente che aveva divorziato dalla moglie e che ora stava crescendo sua figlia da solo. Ascoltando la sua storia, veni a sapere delle sue difficoltà, del fatto che la moglie lo aveva tradito, causando il divorzio. E che sua figlia Alice frequentava solo la terza elementare ed era abbastanza matura per la sua età. Aveva difficoltà a capire come interagire con lei. Naomi, saresti disposta a darmi qualche consiglio su Alice? Cosa? Io? Ti sto implorando. Ci sono così tante cose che non capisco come padre e, soprattutto, come donna, che per Alice potrebbe essere più facile parlare con te che con me. La prego, la supplico. Non ho mai cresciuto un bambino prima d'ora, risposi, non credo di poterti dare alcun consiglio. Inizialmente rifiutai, ma era chiaro che David era davvero in difficoltà. Alla fine, a malincuore, accettai di ascoltare almeno le sue preoccupazioni. All'inizio mi limitai a rispondere alle domande di David al telefono. Su come pensa una ragazza, su cosa ha bisogno una ragazza, cose del genere. Ma le cose cominciarono a cambiare quando David mi chiese di andare a fare shopping con lui per il regalo di compleanno di Alice. Voglio fare ad Alice un regalo a sorpresa che le piacerà molto. Verresti a fare shopping con me? Avendo già offerto il mio consiglio un paio di volte, non ci pensai molto e accettai. Ma si rivelò una scusa per un maldestro invito all'appuntamento da parte di David. Dopo aver finito di fare shopping, mi disse, lascia che ti ringrazio frendoti una cena. E mi portò in un bel ristorante. Lì mi confessò, la verità è che, Naomi, provo qualcosa per te. Fui davvero colta di sorpresa. E con la confessione di David, mi sono resa conto di essere attratta da questa sincerità nell'affrontare di petto i suoi problemi familiari. Così ho iniziato a frequentare David e, dopo qualche appuntamento, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme ad Alice. Quando David me l'ha presentata per la prima volta, ho capito che Alice era piuttosto diffidente nei miei confronti. È naturale. Si era appena separata dalla madre a causa del divorzio e doveva avere paura di perdere il padre per una donna che non conosceva. Anche dopo il mio matrimonio con David. L'anno successivo, Alice non mi parlò mai. Silvia, una compagna di classe mia e di David, mi telefonava di tanto in tanto, preoccupata. Come va? Ti sei avvicinata un po' di più ad Alice? Non avete litigato, vero? No. Per niente. Anche se inizio una conversazione, finisce con un sì o un no. Sarebbe bello se riuscissimo a discutere abbastanza da sostenere una conversazione. Ah, beh, è vero. Mi consultavo spesso con Silvia perché anche lei aveva una figlia dell'età di Alice. Le ragazze sono difficili, vero? Sembrano mature per la loro età. Quindi non dovrei pensare a lei come a una bambina? Forse è vero, probabilmente non dovresti trattarla troppo come una bambina. Silvia, che mi ha dato consigli basati sulle sue esperienze, è stata una vera manna dal cielo. Inoltre, si è scoperto che la figlia di Silvia e Alice frequentavano la stessa scuola elementare. Sei diventata improvvisamente madre di una bambina di nove anni, non hai fretta. È vero, tutto si riduce a questo, no? Ho sospirato. Mi sentivo abilita, pensando che non c'era nulla che potessi fare in tempo per risolvere le cose. Anche Davide era molto preoccupato per il rapporto incelto tra me e Alice, perciò decidemmo di fare una gita di famiglia al mare, sperando che servisse da punto di svolta. Ho sentito dire che in questa spiaggia si possono trovare delle belle pietre. Eh, belle pietre. Voglio assolutamente trovarle. Quel giorno Alice, cercando di mantenere le distanze da me, iniziò a cercare disperatamente le pietre al fianco di suo padre. Mi sentivo un po' triste per questa distanza, ma anch'io iniziai a cercare le pietre. Se trovavo una bella pietra, pensavo di regalarla ad Alice. Niente, non c'è niente, dissi setacciando la sabbia. È vero, però troviamo un bel po' di belle conchiglie. Eh, conchiglie? L'attenzione di Alice sembrava fissata sui sassi. Doveva essere così assorta da non accorgersi di nient'altro. Alice, guarda, dissi, tenendo in mano una conchiglia rosa. Non è bellissima? Alice guardò le mie mani. Fammi vedere la conchiglia bella. Certo. Ecco. Le porsi la conchiglia. Wow, esclamò lei, esaminandola attentamente. È vero? È così bella. Se ti piace. Alice, puoi prenderla. Davvero? Sono così felice. Grazie. Il viso di Alice si illuminò mentre prendeva la conchiglia. Poi David chiamò. Ehi. Ho trovato questa pietra. Aspetta. Alice. Anche tu hai trovato qualcosa? Chiesi. David, madido di sudore, aveva trovato una conchiglia color lavanda. Wow, anche questa è bellissima, osservò Alice. Mentre entrambi scrutavamo la mano di David, le nostre teste si scontrarono. Ai, trasalì, strofinandomi la fronte. Alice risse. Va tutto bene? Alice? Stai bene? Sì. Sto bene. Mi rassicurò. Con la conchiglia rosa nella mano destra e la conchiglia a color lavanda nella sinistra, Alice guardò David e me, dicendo, ne farò tesoro. Da quel giorno, la distanza tra me e Alice si accorciò gradualmente. Ogni volta che eravamo tutti e tre insieme, facevo in modo di parlare più con Alice che con David. Ci scambiavamo pensieri sui nostri cartoni animati e fumetti preferiti, discutevamo dei pranzi scolastici e condividevamo le nostre antipatie. David ci lasciava un po' di tempo da soli. Abbiamo comprato vestiti insieme, visitato caffè con deliziosi dolci in edizione limitata e siamo andati a vedere film lentamente, ma inesorabilmente. L'espressione di cautela e di ritegno sul volto di Alice cominciò a svanire. Quando Alice divenne una studentessa delle superiori, le persone intorno a noi dicevano, che famiglia meravigliosa che siete. Io ne ero sinceramente felice. Tuttavia, quando Alice iniziò a frequentare l'università e a vivere da sola, ricominciò a prendere le distanze da me. Le risposte ai miei messaggi erano spesso brusche e, quando veniva a casa, non mi parlava quasi mai. Ho cercato di creare occasioni per parlare con lei, come consegnarle la paghetta di persona invece di trasferirla. Ma lei mi rispondeva solo la prossima volta trasferiscila. Non lasciava spazio alla conversazione. Ho provato a servirle i suoi cibi preferiti, ma mangiava in silenzio. Anche se trattava normalmente gli altri, sentivo che il suo atteggiamento nei miei confronti si stava gradualmente raffreddando. Anche David se ne accorse e discutemmo se potesse essere il suo momento di distacco dai genitori. Ma anche se il suo atteggiamento nei confronti del padre non cambiava, non sembrava convincente il motivo per cui era fredda solo con me. La gioia per il ritorno a casa di mia figlia cominciò gradualmente a diventare pesante. Poi, durante le vacanze estive del terzo anno di Università di Alice, si verificò un incidente. David morì improvvisamente a causa di un incidente sul lavoro. Ricevuta la telefonata dalla sua azienda, Alice e io ci precipitammo all'ospedale, ma David era già disteso sul letto, con un panno bianco che gli copriva il volto. L'addio improvviso, la tristezza di non poter trascorrere i suoi ultimi momenti insieme. Le emozioni si fecero sentire e sia io che Alice non riuscimmo a trattenere le lacrime. Ma dovevo procedere con il funerale di mio marito. Mentre lottavamo per tenere il passo con le nostre emozioni, andai avanti con l'organizzazione del funerale e arrivò il giorno. Alice non riusciva nemmeno ad alzarsi per parlare, continuava a piangere accanto alla bara di suo padre. Volendo confortarla, mi avvicinai dolcemente e le toccai la spalla. Fu allora che accadde. Non toccarmi. Alice mi scansò violentemente la mano. Poi, lanciandomi un'occhiata, sparì in un'altra stanza. È stato scioccante. La perdita di mio marito era già abbastanza scioccante, ma in più il forte rifiuto di mia figlia mi colpì duramente al cuore. In uno stato di shock, sono riuscita in qualche modo ad adempiere ai miei doveri di coniugi in lutto. A dare l'addio a mio marito e a prendere finalmente un po' di respiro. Durante la sua vita. Mio marito era molto in debito con i suoi zii, che vennero a trovarmi dicendo, nonna, deve essere stata molto dura per te, visto che è successo così all'improvviso. Inoltre, altri parenti cominciarono a riunirsi in torno a me. E naturalmente la conversazione si spostò sull'eredità di David. Poi ognuno di loro se ne andò, dicendomi, se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti, non esitare a chiedere. Rimanemmo solo Alice e io. Ero davvero esausta e stavo andando in camera mia a riposare quando è successo. Ora che papà se n'è andato, dovresti andartene anche tu. Come? Scusa? Ho sempre odiato il tuo comportamento da finta madre. Non sei altro che una falsa. Che cosa hai appena fatto? Le parole di Alice mi trafissero il cuore. Impallidendo, sopportai che continuasse a lanciare accuse. Anche quando ero piccola, tutto ciò che compravi per me, era solo per stare dalla mia parte, non è vero? No, io. E anche adesso sei qui per l'eredità di papà, non è vero? L'ho sentito. Ho sentito gli zii dire che papà ha lasciato una fortuna di 3 milioni di dollari. Alice, non è vero. Non te la darò mai. Rinuncia ai tuoi diritti sull'eredità. Non avvicinarti mai più a me. Con un sorriso sghembo sul volto, Alice mi guardò. Mi resi conto che non potevo più sopportarlo. Come desideri, rinuncerò ai miei diritti di eredità. Lascio a te questa casa e tutto ciò che riguarda tuo padre. Non avrò più nulla a che fare con te. Sentendo le mie parole, Alice risse con un'espressione trionfante. Forse me lo ero immaginato, ma sembrava esserci un senso di sollievo nella sua espressione. Il mattino seguente raccolsi le mie cose e tornai a casa dei miei genitori. Ma tre giorni dopo Alice, che aveva detto di non coinvolgersi con lei, mi chiamò. Ehi, che succede? Di cosa stai parlando? L'eredità di papà? Mi hai ingannato, vero? Sospirai profondamente alla sua voce concitata. In effetti, l'eredità di David era davvero di 3 milioni di dollari. Ma si trattava di debiti. Il giorno del funerale, io e i parenti discutemmo del fatto che, a causa dei fallimenti commerciali di David, c'era un debito di 3 milioni di dollari. E che avremmo dovuto rinunciare all'eredità del debito il prima possibile. Avendo sentito solo frammenti della conversazione, Alice aveva apparentemente dato per scontato che 3 milioni di dollari sarebbero arrivati a lei. Inoltre, aveva contratto un debito di 5 mila dollari con i prestiti delle carte di credito. Di fronte ai propri debiti e all'imminente accumulo di quelli del padre, Alice era in preda alla frenesia. Lo sapevate, vero? Sapevi che c'erano 3 milioni di dollari di debiti e sei rimasta in silenzio. Fai qualcosa? Sì, lo sapevo. E sapevo anche del debito di 5 mila dollari che Alice aveva contratto, e che avevo appreso dalla figlia di Silvia. Avevo pensato di rinunciare all'eredità di David, di accollarmi il debito di Alice e di sostenerci a vicenda mentre andavamo avanti nella vita. Ma, dopo l'alterco al funerale, mi resi conto che una vita del genere era impossibile. Così le ho detto che eri tua dire di starne fuori. Ora io e te siamo estranei e non posso più aiutarti. Interrompendo Alice, che stava urlando qualcosa dall'altro capo del telefono, riattaccai in silenzio e bloccati il suo numero. Erano passati quasi tre mesi dal funerale di David. Avendo rinunciato all'eredità, avevo lasciato la casa di famiglia e vivevo da sola in un piccolo appartamento. Avevo messo una sua foto e un vaso di fiori. Mi dispiace, non ho potuto proteggere la tua preziosa figlia, dissi alla foto di David. Ero piena di rimpianti da quando avevo litigato con Alice al telefono e avevo messo fine alla nostra relazione. Pur sapendo che Alice era già indebitata, l'avevo allontanata quando aveva finito per indebitarsi ancora di più. Perso nei miei pensieri e con una sensazione di disagio, squillò il telefono. Era Silvia. Naomi, Alice è in guai seri. Il messaggio di Silvia? In preda al panico, era il seguente. Alice era rimasta così scioccata dai 3 milioni di dollari di debiti che era diventata una reclusa, incapace di fare qualsiasi cosa. Ovviamente, non era stata in grado di rinunciare all'eredità. Avevo pensato che Alice lo avesse fatto dopo l'incidente. Devi chiedere di rinunciare all'eredità entro tre mesi. Naomi, che cosa faremo? Mi sentivo come se stessi per svenire, sentendo le parole di Silvia. Erano passati quasi tre mesi dal funerale di David. Se non ci sbrighiamo, Alice si ritroverà sicuramente con un debito di 3 milioni di dollari. Ma non potevo rispondere immediatamente. Il giorno del funerale, le parole di Alice mi erano rimaste impresse nella mente. Non sopporto di essere trattata sempre come una madre, anche se sei un'estranea. Lo aveva detto con un sorriso distorto. E se avessi cercato di aiutarla di nuovo e fossi stata rifiutata allo stesso modo? Ricordando gli occhi di Alice quel giorno, avevo troppa paura di fare qualcosa. Non posso farlo. E se mi dicesse di nuovo che non sono sua madre e di smettere di fingere? Naomi. Poi è successo. Proprio quando non riuscivo a correre da Alice, il ciondolo che mi aveva regalato mio marito, posto vicino alla sua foto, cadde. Di punto in bianco, decisi di aprire il ciondolo. Con mia grande sorpresa, al suo interno c'erano le conchiglie rosa e lavanda che avevamo raccolto in quel giorno di vacanza con la famiglia, insieme a un breve biglietto. A quanto pare, David aveva conservato in segreto ciò che Alice aveva scartato. La lettera recitava. Quel giorno, grazie a queste pietre e conchiglie, siamo riusciti a diventare una famiglia. Spero che potremo sempre rimanere una famiglia e andare d'accordo, scritto a mano da David. Ero sopraffatto dalle lacrime. È vero, volevo essere la vera madre di Alice. Mi ricordai che volevo essere una vera famiglia con la lettera di David. Mi precipitai all'appartamento dove Alice viveva da sola e suonai il campanello. Alice, che sembrava terribilmente stanca, aprì la porta. Perché sei qui? I suoi occhi erano pieni di odio per me. Non ascoltò quello che avevo da dire e cercò di mandarmi via. Sei tu che mi hai abbandonato quando ti ho chiesto aiuto. Cosa stai facendo adesso? Lasciami in pace. Disse questo e iniziò a lanciare qualsiasi cosa fosse a portata di mano. Ero sul punto di crollare sotto il peso del suo sguardo di rifiuto. Ma, in verità, io, non voglio rinunciare a te. Non voglio rinunciare a essere tua madre. Allungai la mano per abbracciare Mika, riversando tutti i miei sentimenti che avevo trattenuto fino a quel momento. Sì, ci sono state cose del tuo comportamento di allora che mi hanno fatto pensare. Ci sono parti che ancora non riesco ad accettare. Sentimenti difficili da perdonare. Tuttavia, i miei sentimenti di amore per Mika come figlia, e i miei sentimenti di affetto per lei, erano emozioni reali dentro di me. Quindi, è per questo che voglio vivere con te d'ora in poi, lo voglio. Sentendo questo, Alice smise di lanciare oggetti, forse non riusciva più a trattenersi. E cominciò a singhiozzare violentemente tra le mie braccia mentre si dimenava. E, mentre piangeva, mi disse. Quando ha visto il mio volto per la prima volta, ha avuto paura. Che avrebbe potuto perdere i ricordi e il tempo trascorso con la sua vera madre. Che sapeva che ero gentile con lei. Che era doloroso non poterlo accettare, anche se lo sapeva. Poiché era doloroso, ha dovuto convincersi che la mia gentilezza era ipocrisia. Lo fa solo per piacere a papà. Il braccio di Alice, che fino a quel momento si era allontanata da me, lo sentì avvolgermi la schiena. Piangemmo forte mentre ci abbracciavamo. Il giorno dopo ci precipitammo dall'avvocato. L'avvocato che aveva informato Alice del debito del padre. L'avvocato ci disse che stava aspettando la richiesta di Alice di rinunciare all'eredità. E ha subito avviato le procedure necessarie. Alla fine. La rinuncia all'eredità da parte di Alice è arrivata appena in tempo. È stata una fortuna che Alice abbia ricevuto dall'avvocato una spiegazione sul debito residuo di David tre giorni dopo il funerale. Sono impallidita quando ho sentito che il termine per la richiesta di disconoscimento dell'eredità e di tre mesi. Ma la data di inizio di tale termine non è il giorno in cui David è morto. Bensì il giorno in cui Alice è venuta correttamente a conoscenza del debito. Grazie alla differenza di quei pochi giorni, siamo riusciti in qualche modo a preparare la domanda in tempo. Sono davvero grato all'avvocato per aver risposto alla nostra improvvisa richiesta. Per quanto riguarda Alice, sembrava sollevata dal fatto che il processo di rinuncia all'eredità si fosse svolto senza problemi. Evitando una situazione in cui avrebbe dovuto accollarsi un grosso debito. Ed è rimasta a letto per qualche giorno. Quando riuscì ad alzarsi, sembrò essere troppo cauta con me. È stata Silvia a dirmi che Alice sembrava pentirsi profondamente del suo atteggiamento nei miei confronti il giorno del funerale. Sembra che abbia detto a mia figlia che vuole scusarsi, ma è imbarazzante e non riesce a iniziare la conversazione. Questo ha senso. Ehi, inchiodami. Non sei un po' troppo prudente? Eh, davvero? Silvia dall'altra parte del telefono disse un po' arrabbiata. Proprio come quando hai fatto irruzione a casa di Alice l'altro giorno, non va bene dare più voce ai tuoi sentimenti? Ma finché i sentimenti di Alice non si calmano, è meglio non dire nulla di troppo forte. Hai deciso di non rinunciare ad Alice, vero? È vero. Avevo deciso allora che volevo diventare la vera madre di Alice. Così ho cominciato a sforzarmi di trasmettere ad Alice i miei veri sentimenti. In risposta, Alice smise di nascondere i suoi sentimenti. Quando le nostre opinioni si scontravano. Abbiamo persino iniziato a discutere. Ero felice. Sono passati dieci anni dalla morte di mio marito. Ero in una piccola stanza d'ospedale. Davanti a me c'era mia figlia che giaceva accanto a un neonato. Vedendo il sorriso gentile di mia figlia che guardava beatamente il bambino che dormiva, ho provato un senso di felicità travolgente. Mamma, puoi tenere il mio bambino? Va bene? Sì. Per me, che non avevo esperienza di parto, era la prima volta che tenevo in braccio un neonato. Non sapevo come prendere in braccio questo essere morbido e tenero. E mia figlia rideva del mio stato di confusione. Tu? Beh, è la mia prima volta. Mia figlia mi fece sedere su una sedia, guidò le mie braccia in posizione e vi pose delicatamente il bambino. È calda. Le lacrime cominciarono naturalmente a scorrere. Anche a David sarebbe piaciuto tenerla in braccio. Volevi mostrare la bambina a tuo padre, vero? Alice? Alice si mise a ridere di nuovo. Mamma, mi basta che tu la tenda in braccio.